Parafrasando Pavese si potrebbe dire che un maestro ci vuole, fosse anche per distaccarsene, ma soprattutto per leggere dentro le proprie passioni con gli occhi di un altro. E' questa l'anima dell'ultimo libro di Flavio Caroli, un viaggio nella memoria tra affetto e rigore scientifico. Roberto Longhi, Alberto Graziani, Francesco Arcangeli, Giuliano Briganti, Ers Gombrich, Carlo Ludovico Ragghianti. Grandi personaggi con cui Caroli è intessuto nel corso degli anni rapporti più o meno stretti, ma che comunque tutti hanno lasciato una traccia, non solo nello spirito dell'autore, ma più ancora nel tesoro di studi che fa parte del patrimonio della storia dell'arte italiana. Interpretazioni e attribuzioni, confronti tra scuole diverse, dispute su esistenzialismo ed idealismo o sulle influenze tra arte e società, e soprattutto le riproduzioni delle opere che hanno accompagnato questo servizio. Insomma, con gli occhi dei maestri è un piccolo scrigno di bellezza e sapienza.